Con la leggenda del pallavolista volante si esibisce in memoria dell'amico Vigor Bovolenta, vittima di un arresto cardiaco che lo ha stroncato in campo. Andrea Zorzi, uno dei protagonisti delle stagioni azzurre del volley più gloriose, porterà il suo spettacolo il 28 ottobre al municipale. Uno spettacolo teatrale che parla un po' della mia storia come pallavolista all'interno di una squadra straordinaria, di cui ha fatto parte anche Vigor, che ha vinto molto, ma che ha anche avuto sconfitte cocenti, dalle quali ha saputo rialzarsi e questo è il messaggio più importante. Tra volte si corre il rischio di pensare che gli atleti professionisti, quelli che hanno vinto, siano atleti che hanno avuto un percorso facile, senza sconfitte, non è così. La nostra nazionale, che è così tanto amata dal pubblico, in realtà è segnata soprattutto da grandi sconfitte, anche da grandi vittorie, ma questo ci ha permesso in qualche modo di scoprire che la vita è fatta di alti e bassi. Questo è un altro messaggio che lo sport può mandare, ricordandoci che lo sport non è assolutamente solo vittorie e sconfitte, ma è molto di più. Telelibertà l'ha incontrato alla Santissima Trinità, dove Zorze è stato al centro di un dibattito con i ragazzi dell'Iceo San Benedetto. Parlare con i giovani di sport è molto divertente, anche molto complicato, un po' perché accade spesso e non sempre è facile trovare il canale diretto per parlare con loro. Per quanto mi riguarda personalmente poi c'è anche una questione anagrafica, nel senso che io ho giocato ormai tanti anni fa e quando parlo con i giovani superiori devo spiegare un po' chi sono, nel senso che forse i loro genitori mi hanno visto giocare, ma non loro. Infine Zorze è stato interpellato sulla prima giornata del campionato, in cui il Copregliore è uscito sconfitto dalla trasferta a Città di Castello. Ormai è una costante che all'inizio del campionato ci sono alcuni risultati a sorpresa, un po' perché alcune squadre, quelle potenzialmente più forti, arrivano con poco allenamento, le neopromosse arrivano invece con tutte le motivazioni del caso, è già molto collaudate, quindi non mi preoccuperei troppo. E' vero che potrebbe essere un campionato questo un po' diverso, perché c'è una sola squadra ed è macerata che sembra avere l'organico superiore agli altri, per il resto, nonostante Piacenza siete a considerarsi tra le favorite, è una squadra che dovrà lottare tutte le settimane, perché partite scontate non ce ne sono.